Musica Buonasera a tutti e benvenuti Bentornati in un nuovissimo video Oggi vi porto il gioco di Assassin's Creed 2 Sono andato a vedere il film recentemente Mi fa abbastanza Non cagare ma diciamo che non mi fa impazzire Però mi è tornata la voglia di giocare ad Assassin's Creed Se guardate Lo so la qualità del video non è delle migliori Lo so anch'io Sono nella mia schermata di gioco Adesso faccio partire Il tutto E niente ho voluto voglia di giocare ad Assassin's Creed 2 E allora mi son detto C'ho un dispositivo dire qua Che non è dei migliori Ah sentite la mia voce a mezza così cos'ha Perché ho mal di gola eh Quindi poco da mentire C'è ragionamento da fare Lo faremo a Pasqua Uscite seguire Ma fate uscire No ma fate uscire Perché ho fatto questo E niente Allora questo dispositivo qua Che non mi da l'immagine Proprio bellissima possiamo dire Però me la da discreta E dato che io ci voglio giocare Vorrei che voi lo giocaste con me Allora perché no Mi son messo qua E sono riuscito a fare il collegamento Tanto vale ho detto Lo collego e ci gioco Allora niente Facciamo sto cazzo di collegamento E vediamo un po' se parte entro Pasqua Perché io sono ottimista Ale Posso già mettermi comodo Ho già capito E partito ma ce n'è voluta E la morte di papa Porca di quella Allora Partiamo con sto cazzo di gioco Che c'è da un'ora Che ci siamo indietro Sì vabbè la religione Vabbè Allora quindi Siamo davanti alla schermata Start Vediamo un po' Modalità storia Ma si vede contatto anche i salvataggi No li ho Li ho Li ho Ho dei salvataggi Davids Poppo Perché ho un salvataggio Che si chiama Poppo Vabbè Ho un salvataggio che si chiama Poppo Allora Nome Mi chiamo Ok david Ho già un salvataggio david Mi scorsa Riciamiammi david Mi chiamerò Nome giocatore Nome Nome Gioc−ca C−ca 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 To 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 La Ma che bel nome Che bel nome Sto scaricando la videocamera Che bel nome Spero che mi duri ancora un po' Dio addirittura Mini scherma Cos'è lei signore? Vedo tutto rosso Vedo tutto rosso Oh buongiorno signorina Ora dobbiamo andare Via 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 Di corsa di corsa Vai 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 Piano piano Non mi corri dietro Piano 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 Dici di corsa e io piano piano Cos'è successo? Guarda che bocca C'ha una bocca Tipo largare Ah ok Mi devo sdraiare lì Ma lo comodo Relax Allora scediamoci Relax Oh lei Andiamo dentro l'animus Vedete è completamente diverso dal film A me sinceramente mi piaceva più cos'è Come ho visto nel film È un po' più epico Perché va a zeppos La madonna La madonna La madonna No sofferenza Donno Di nuovo Pigi Pige Pige Ok Ah devo essere io Ti chiamerò nome giocatore È un bellissimo nome È un bellissimo nome Che faccia da volto Sono arrivato troppo tardi Bello Sono nato Giovanni Giovanni Amore mio Va tutto bene Tu sei un auditore Sei un combattente Perciò Combatti Combatteremo sempre Ah ok Devo premere X Per muovere le gambe Eee 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 Ah ok Tondo per muovere la nuca C'erano messo dei comandi Che potrò usare solo stavolta Muè Muè Ok Sono vivo Eee Mi sono mosso Che razza di polmoni E che nome gli daremo Amore mio Ezio Ezio auditore da Firenze Ezio auditore da Firenze Ma che cura Per me è andato leggermente troppo indietro Deve andare un pochino più avanti Secondo me Ha esagerato proprio di quel poco Ah no ok Servito a sapere questo Ok E' nato un bambino Di nome di teo auditore a Firenze Nel 1900 Non c'è tempo Desmond Dobbiamo andare Nel 300 Ok Sono io Pronti Pronti Posso correre adesso? Ok Posso già andare un po' più veloce Ok Posso dare il pugno Ma non posso correre Ok Posso correre Stiamo davvero scendo di qui Ok Il corcia Da come si fa a correre Non mi ricordo i più i tasti Con le contropalle Ok Devo camminare sempre Oh buonasera signori Non c'è mica qui perché era casino Passavamo di qua E non dovevo mica disturbare Aprile la porta No non apriamo Non compriamo niente Non apro Non apro Voi state ne va a fare ancora Ripeto c'è stata una violazione Nell'ala di ricerca Eh perché Fammi correre Voglio correre Farete di ventre Ficco Deve essere un bel casino Eccoli lì Buongiorno Non fateli scappare No No fammi Ma voglio attaccare io Voglio attaccare io Voglio attaccare Voglio attaccare io Oh cazzo Cuffà Non piscare Dov'è che devo andare Ah giù di qua Andiamo E io ovviamente Non posso mai correre Perché È un figurino Lui deve sessitare un figurino Deve muoversi come Come un figurino Ok Cosa Dobbiamo raggiungere l'ascensore All'altro lato della sala E che problema hai Stammi qui Ma occhi a quelli della sicura Evitiamo gli sconti Quindi devo muovermi silencioso Ok Piano 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 Ok Ok Ci muoviamo in effetti In modalità caucasica Sai come la modalità caucasica Ti cammino piano Piano Come sempre fa Poi faccio gli scattini ogni tanto Quello è un Animus Un altro Animus Eh sai Di quei pochi di Animus Ok Bene Stai con me Sì sì che ti muo Finirai per farti male Desmond Madonna 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 Come ti permetti anche solo di guardarmi Io seguivo te Se tu ti vuoi far beccare Poi dove sono toccati i tuoi E chi ti sa lontano Sono stata attaccata al culo Guardi te Si dice gli Animus O gli Animi E' un bel domandone Si dice gli Animus O gli Animi Madonna No questo è mio No Io lo voglio Mio E mio Madonna Madonna Mio E mio E mio E mio Madonna 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 Dov'è il prossimo Dov'è il prossimo Devo smolecolare Oh per fortuna Non devo farmi vedere Mi sono fatto sgamare da 40% Che se ne faranno di questi Desmond Ma che si faceva a con Non c'è un modo Ah ok Ok R1 per con Chi se lo ricordava più Meglio Meglio Pensavo che questa scheda funzionasse Deve essere su un altro sistema E non ho il codice Che sfida Ok modalità aquila Merda Avanti Modalità aquila Quella buona Non lo so E' la modalità aquila Fa così Apri l'occhio E' sempre qualcosa Praticamente apri l'occhio buono E vi di meglio Il soggetto 16 Ezio Audi qualcosa Credo che ci siamo sbagliati Ecco perché dobbiamo uscire di qui Vedi che i templari Sono solo una parte del problema Che vuoi dire Te lo spiego una volta arrivati Arrivati dove? Fanculo Uè andate Stete scappando da quel posto lì Cazzo tiramente E' più contento di così? A impasciare Buongiorno signorine Buongiorno 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 Non volevo Voglio Non voglio problemi Aia Aia Non volevo tanti problemi Ma mollami Non voglio problemi Madonna Ti attacco al muro Madonna Ti attacco al muro Madonna Madonna Ti attacco al muro Eh beh 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 Eh Eh Aia Come vanno i combattimenti Ma mi bullizzate Non è giusto però Bullizzate Non è giusto Sì sì certo certo Avete ragione voi Avete ragione voi Non li ho i soldi della merenda La città che mi ha fatto La città che mia mamma mi ha fatto I rigastoni All'agume E' fatto portare dietro Non è giusto I soldi della merenda Va bene Mangio tutti io I rigastoni E' creep E' mori Oh Ma picchi anche lei Ah no lei no Il fatto che ero dietro Via 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 Devo scappare Devo scappare Via 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 di corsa Di corsa Un bagaglia Scherzi Una postura comoda Devo essere sincero Comodo comodo Ah proprio Il relax Proprio il relax Bomba col motorino Ok sono arrivato a casa Questa è casa mia Bella Grazie davvero Fantastico Essere ficcato in un bagagliaio E' sballottato in giro Ah beh se ti piace E' andato pur bene Allora Adesso mi vuoi dire Che succede Eh C'è un motivo Per la tua fuga No va là Davvero Ci serve il tuo io No Per cosa Un'altra caccia al tesoro Non ci credo Dai veramente L'Ubster vuole sostituire La sua mela dell'Eden La mappa che hai trovato Ne è la prova Gli altri assassini Faranno il possibile Dovunque sia possibile Ah Cosa Che c'è Stiamo perdendo la guerra Desmond I templari sono troppo potenti Sono sempre troppo potenti eh Ascolta posso attra sta parte Magari prima di lei Ho pensato sta parte Che tanto non mi interessa Sì Era la storia Vabbè Bella 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 Dai sono già arrivato io Dove siete No aspetta strada Sbagliato strada Come un coglione Di qua Dov'entrare Dai Prigati Ciao signorina Come va Molto piacere di conoscerla Per caso vuole un caffè dopo un caffettino Eh vuole altro dopo il caffè Eh che cazzo Va bene Ci sto Dimmi cosa ti serve Davvero Sei sicuro Pensavo che ti avrei fatta felice Scusa Sono solo un po' sorpresa Sta provando Mentre guardavo Palesemente ci sta provando Oh Dio l'abbraccione Vedi 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 che funziona Vedi che funziona Eh sempre il fascino Di quello la che non fallisce mai Dio quanto tempo Sette anni Roba da non credere Davvero Bentornata Ah questo deve essere il famigerato soggetto 17 Desmond Mice giusto? Voi chi siete? Scusa che maleducato Sono Sean Hastings È una faccia da cazzo Molto piacere Desmond Bene piacevolissima conversazione Ma se non vi spiace Sarà meglio mettersi su Ha una faccia da cazzo Insisto proprio Ha una faccia da cazzo Abbiamo già preparato tutto Lucy Quando vuoi possiamo procedere Procediamo Tieni Ti ho portato qualcosa Quando ne voglio Un regalino di commiato dall'abstergo Wow Il nucleo di memoria Ma è fantastico Con i loro dati Le cose andranno molto più veloci Mi butto sul codice di inserimento È una gran nerd questa qui direi Ma non un pochino È una gran nerd Allora Mi piace il mio squadrone Allora C'abbiamo una fighezza Che sa fare tutto Abbiamo una nerdona Di quelle della madonna Ci abbiamo uno con la faccia da cazzo Ci sono io Che sono l'unico coglione Forse intelligente Di sto mondo Mi piace come avventura Mi piace l'inizio di questa storia Anche se l'ho già fatta Ma sinceramente parlando Non me la ricordo più Bene ragazzi Spero che la qualità del video Sia accettabile Se il video vi può essere piaciuto Vi ricordo di lasciare il pollice su Se non mi è piaciuto questo video Vi ricordo di lasciare il pollice su Commentatelo Condividetelo ovunque Anche accesso mi raccomando E niente Tanto io la porto lo stesso video Perché io il gioco lo voglio fare Cazzi vostri Se non lo volete vedere il video Io vi strozzo uno per uno E buonanotte E per il momento Possiamo dire Che è Finita Da Sterco Industries Sembra pubblicità della soda Sembra pubblicità della soda